Torniamo a parlare di Neo QLED con il Samsung QN90B, di fatto evoluzione della tecnologia lanciata lo scorso anno da Samsung, la serie Neo QLED fa riferimento alla retroilluminazione mini LED, super precisa proprio per la retroilluminazione e per questo in alcuni contesti di immagine paragonabili all'OLED. Ho messo anche sul canale un video proprio di confronto dove vediamo che Neo QLED e OLED hanno prestazioni paragonabili, allo stesso tempo però il Neo QLED ha retroilluminazione come detto mini LED, prezzo più basso proprio per la sua struttura è il pannello LED con tecnologia Quantum Dot, quindi colori saturi e vividi e ovviamente totale assenza di rischio di burn-in. Il modello di prova è un Samsung QN94B da 43 pollici, lo troviamo anche da 50, 55, 65, dimensioni più grandi, estremamente simile al QN90B ed estremamente simile al QN95B che come differenza sostanziale ha il One Connection Box, quindi un box separato per tutti i collegamenti. Il QN94 ha un leggerissimo miglioramento nella tecnologia di dimming, quindi qualcosa relativo alla retroilluminazione. Nella fase di scelta comunque consiglio di vedere semplicemente quello che è il prezzo più conveniente perché comunque come prestazioni siamo più o meno sullo stesso livello. Detto questo andiamo a vedere tutte le caratteristiche e le novità e gli aggiornamenti ci sono su questo modello Neo QLED dopo la sigla. Parto con un appunto sul telecomando che si aggiorna con materiali migliori e miglior grip e non solo al pannello sonare come abbiamo visto in precedenza per la ricarica, non lo caricheremo mai perché adesso si ricarica anche con le onde radio wifi di casa. Detto questo parliamo del pannello perché di fatto si tratta di un televisore che ha tecnologia mini led per la retroilluminazione come detto. Retroilluminazione mini led significa led piccolissimi ed estremamente precisi e questo permette di ottenere dei neri quasi assoluti direttamente nelle immagini scure lo vediamo e una precisione paragonabile appunto all'oled. Questo permette allo stesso modo di ottenere un'ottima luminosità che arriva fino a 2000 nits quando utilizziamo la tecnologia HDR, comunque una luminosità estremamente elevata rispetto ad un OLED che non può arrivare a questi valori e quindi in combinazione con il quantum dot che permette di ottenere a schermo dei colori più saturi e più vividi, possiamo settarlo chiaramente lo andiamo a vedere ad hoc, permette di ottenere un'esperienza di visione davvero ottima. Ci sono una serie di certificazioni HDR che arrivano anche sull'ottica gaming e non solo per un televisore che ovviamente è votato anche a utilizzare le console di nuova generazione come Xbox Series X e PlayStation 5 al meglio possibile perché abbiamo 120 Hz di refresh rate che con la tecnologia aggiuntiva, il Motion Turbo Accelerator Pro permette di arrivare anche ai 144 Hz. Abbiamo insomma massima malleabilità in base a quello che vogliamo vedere. Come sempre abbiamo la possibilità di andare a gestire tutto quello che riguarda la parte software completamente rinnovata, il sistema operativo Tizen 2022 riceve un rinnovo appunto in termini di interfaccia e come abbiamo visto anche sul Q60, quindi l'entry level QLED, abbiamo anche un'integrazione perfetta con l'ottica del cloud gaming e Samsung è l'unica azienda che offre questo servizio. Ci arriviamo. Prima di tutto parliamo delle impostazioni che possiamo andare a vedere sul menu principale e possiamo gestire la modalità intelligente. La modalità intelligente permette di gestire tutto automaticamente, quindi miglior setting d'immagine, migliore regolazione del volume, migliore tutto praticamente in base agli algoritmi e l'elaborazione dell'immagine del televisore che ovviamente fa upscaling in 4K, è un televisore 4K HDR chiaramente, come detto 120 Hz di frequenza, però è consigliabile dare una mano ai settaggi direttamente con il proprio input. Che cosa significa? Che direttamente dalle impostazioni possiamo andare a settare come sempre tutto quello che riguarda una serie di preset, quindi dei preset già pronti per l'utilizzo dell'immagine, ma allo stesso modo possiamo anche andare a fare tutto manualmente. Nei preset troviamo la modalità dinamica che spinge colorazione e luminosità del pannello, modalità standard che possiamo prendere come punto di partenza già ottima di per sé per poi andare a gestire manualmente la calibrazione e quindi anche tutti i vari settaggi dell'immagine, modalità film per vedere ovviamente l'ottica cinematografica al meglio possibile e ci diamo ancora una volta la presenza della filmmaker mode che rende praticamente nativa l'esperienza di visione di un film o una serie tv, proprio come è stata inquadrata dal regista, quindi i colori quanto più neutri possibile e comunque lì si nota davvero tanto la qualità anche del pannello. Quando vediamo prodotti come film direttamente scaricati nostri da un supporto di storage, collegabili tramite port USB oppure dai vari servizi streaming come Netflix, Amazon Prime Video e tutti gli altri, Disney Plus ce ne sono vari come sappiamo. Al di là di questo, quindi tutti i vari preset, possiamo andare su impostazioni avanzate e gestire tutto quanto manualmente, dalla luminosità al contrasto, alla nitidezza e ci sono tutti i parametri che possiamo chiaramente gestire. Non solo, è anche possibile gestire la calibrazione direttamente col proprio smartphone Samsung Galaxy, quindi se ho necessità posso utilizzare l'applicazione dedicata, utilizzando la fotocamera dello smartphone da mettere sullo schermo posso fare una calibrazione. Tuttavia è un processo che richiede un po' di tempo, direttamente secondo il nostro gusto possiamo settare in modo ottimale direttamente dalle impostazioni che abbiamo visto. Allo stesso modo il televisore è ottimo dal punto di vista audio perché ha a disposizione delle casse da 60 watt, audio immersivo, è certificato Dolby Atmos e anche qui abbiamo tante possibilità di personalizzazione direttamente dal menu dedicato. Nella scelta possiamo vedere altoparlante tv per la parte audio, abbiamo l'uscita audio ottica digitale dal punto di vista della connettita ma possiamo anche gestire degli altoparlanti bluetooth. Il bluetooth è il 5.2, l'ultima versione dello standard e ovviamente non ci sono problemi di latenza, anche con le Samsung Soundbar, le Q-Symphony avremo una sensazione di immersione davvero elevata. Il televisore è già un top di gamma di per sé quindi il sistema audio che esce di default è effettivamente non solo a potenza elevata quindi 60 watt ma estremamente inversivo. Per questo tra l'altro ho detto che c'è una certificazione Dolby Atmos e la vediamo nei contenuti, tra poco ci arriviamo. Anche nelle impostazioni audio avanzate posso andare poi a gestire tutto quello che riguarda il bilanciamento e le varie impostazioni di gestione. Tra l'altro il televisore può regolare il volume automaticamente con la gestione del rumore che abbiamo attorno alla stanza, all'ambiente in cui stiamo vedendo la televisione e allo stesso modo anche luminosità e setting come anticipato prima. Viene fatto tutto automaticamente per garantire sempre la migliore qualità possibile di ascolto, non andando a aumentare solo il volume ma proprio per la profondità dell'audio. Abbiamo quindi l'opzione volume auto come ho spiegato e la possibilità di abilitare il Dolby Atmos che ovviamente dà una mano. Abbiamo anche audio surround a 5.1 canali, troviamo come setting questa impostazione direttamente anche su YouTube sui video che hanno questo tipo di audio. Il menu principale permette di accedere a tutti i contenuti che abbiamo a disposizione nonché le applicazioni che preferiamo. Possiamo personalizzare la disposizione delle applicazioni qui sulla parte centrale e ovviamente installare di nuovo direttamente alla sezione apps che troviamo qui sulla sinistra. Prima di andare sulla parte gaming richiamo anche che sul telecomando sono presenti i pulsanti di accesso rapido ai servizi di streaming come quello di Netflix che si avvia molto velocemente come vediamo. E qui abbiamo la facoltà di vedere non solo l'interfaccia di Netflix chiaramente ma proprio le certificazioni compatibili con i contenuti che stiamo andando a vedere. Ad esempio il nostro pianeta come serie è 4K HDR e ha il Dolby Atmos quindi sfruttiamo appena la funzionalità audio di cui abbiamo appena parlato. Li abbiamo di questo tipo a seconda del contenuto che andiamo a vedere e quali sono i suoi punti di forza e non solo abbiamo il 4K HDR ma su alcuni contenuti troveremo anche l'audio 5.1 l'audio surround di cui appunto abbiamo parlato. Stesso discorso comunque con Prime Video che posso richiamare semplicemente premendo il pulsante o a Disney Plus abbiamo questi tre pulsanti più Samsung TV Plus che permette di accedere a contenuti gratuiti. Per quanto riguarda la parte software torniamo sul menu principale perché bisogna menzionare al di là dell'ambient mode che permette di trasformare il televisore in un quadro semplicemente la sezione giochi. La sezione giochi è un'esclusiva che troviamo su Samsung da quest'anno perché il software aggiornato Tizen 2022 integra lo streaming e il cloud gaming. Questa funzionalità permette di giocare a titoli AAA ad esempio sull'Xbox Game Pass come Flight Simulator, Forza Horizon 5, Assassin's Creed Odyssey quindi titoli che troviamo proprio sulle console di nuova generazione. Non sono giochini o piccole applicazioni come quelle che troviamo sullo store ma appunto videogiochi veri e propri. Questa è un'esclusiva e assolutamente da notare anche per chi non ha particolare interesse all'ottica gaming perché ha una potenzialità in più che si può provare appunto praticamente gratis. Piena compatibilità con i standard HDR come HDR10, HDR10 Plus e HLG, quello che viene utilizzato in ottica televisiva. Se vediamo una partita sulla RAI in 4K o su Sky ad esempio utilizzeremo l'HLG. A fronte di questo troviamo comunque un estremo supporto alla qualità delle immagini perché tramite retroilluminazione mini led abbiamo dei neri estremamente profondi, colori vividi anche perché c'è il quantum dot come anticipato all'inizio e ovviamente anche un consumo gestito meglio perché ovviamente andiamo a spegnere in modo molto più preciso i led quando ci sono delle parti nere e delle parti scure all'interno dell'immagine. Questo permette una migliore visione in forma generale. Poi siamo sul top di gamma come detto quindi la massima espressione è l'ottica Neo QLED attualmente disponibile. Il comparto gaming è accompagnato da 4 porte HDMI 2.1 quindi supporto a 48 gigabit per secondo, il meglio possibile per le console di nuova generazione, per i contenuti in 4K HDR, con uno degli standard HDR che è anche adattivo e quindi proprio in ottica gaming. Tramite il VRR, il variable refresh rate, refresh rate variabile, il televisore si adatta automaticamente in base a quello dell'input della console. Se giochiamo su PlayStation e stiamo per esempio facendo girare un gioco a 50 o 60 fotogrammi al secondo in 4K, la frequenza si aggiornerà a 60 Hz. Se ovviamente il titolo richiede un refresh rate più elevato, il televisore cambia la sua frequenza in corsa e si adatta perfettamente a quello che è l'input d'immagine. Ricordo e ci ho fatto anche un video dedicato che sui giochi PlayStation 5 e Xbox Series X abbiamo anche modalità a 120 fotogrammi al secondo, tuttavia questo va a scapito della qualità d'immagine. Quindi io consiglio sempre di tenersi sui 60 e avere una migliore qualità d'immagine, anche se questa è una questione chiaramente di gusti. Dal punto di vista del design è un televisore che segue la linea precedente in alluminio e in grigio per quanto riguarda tutta la cornice, cornici estremamente sottili come vediamo dalle immagini e ottimo per l'installazione perché abbiamo come sempre una base centrale, un po' più rettangolare rispetto ai modelli precedenti, facile da gestire e in metallo. L'installazione è semplicissima, basta avvitare 8 viti e di fatto il televisore è pronto ad essere utilizzato. Lato connettività ho già citato le quattro porte HDMI 2.1 che favoriscono anche chiaramente la modalità gaming del televisore, specifica e si attiva automaticamente per ridurre al massimo l'input lag e arrivare fino a 5 millisecondi, roba che comunque troviamo anche su monitor che vanno verso l'ottica gaming quasi competitive, e allo stesso tempo comunque troviamo porte USB per il collegamento ai supporti di storage esterni, una webcam se vogliamo utilizzarlo tramite Google Duo per fare delle videochiamate e anche uscita audio-ottica digitale, oltre alla porta LAN chiaramente per il collegamento alla rete. Per il collegamento alla rete possiamo utilizzare anche il Wi-Fi in versione AX. Chiude la parte di connettività, ovviamente il digitale terrestre è compatibile con l'ultimo standard, e anche l'HPB TV tramite la visione appunto dei programmi in 4K utilizzando anche la connessione, e l'aggancio direttamente per la parabola se utilizziamo piattaforme per la ricezione satellitare. È un televisore assolutamente consigliato, uno dei migliori disponibili anche proprio per la fascia di prezzo. Come ho detto all'inizio, vi consiglio poi di andare a vedere i link in descrizione che trovano i vari modelli QN90B, QN94B e QN95B. Il QN95 costa un po' di più, è il top di gamma assoluto con il One Connection Box, e quindi costa sempre qualcosa in più, ma tra il QN90 e il QN94 le differenze sono talmente minime che conviene andare a prendere quello che è il prezzo più basso. La qualità del pannello di fatto non andrà a cambiare. È un acquisto, come ho detto, consigliato ed è da scegliere tra questo e l'OLED. Se il budget non permette di arrivare ad un televisore OLED, assolutamente bisogna andare su Neo QLED. Ho provato sia il modello dello scorso anno che quello attuale, i miglioramenti ci sono anche nella gestione delle immagini, ve l'ho fatto vedere appunto con le immagini in sovraimpressione, ma apprezzo soprattutto anche il miglioramento software, che non significa solo interfaccia, ma anche proprio algoritmi di gestione della tecnologia di retroilluminazione, quindi l'Ultra HD dimming, la gestione della retroilluminazione del nero, delle parti in luce, le parti in ombra, le parti scure dell'immagine, comunque tutta la gestione viene fatta in modo migliorato. Lo vediamo proprio sui contenuti e viene aggiunto tra l'altro il Dolby Atmos con anche l'audio surround 5.1. Un miglioramento su ogni comparto, insomma, da parte di Samsung, per un prezzo che non si discosta troppo da quello che vedevamo lo scorso anno, anzi oggi posso dire che è anche piuttosto basso. varia in funzione della dimensione del pannello che vado a prendere, però abbiamo davvero tanta scelta per un pannello che integra non solo la retroilluminazione mini-LED, ma anche la tecnologia Quantum Dot che abbiamo seguito sin dagli inizi praticamente, e i colori che abbiamo su quel tipo di pannello non li troviamo facilmente su altri tipi di televisori. In descrizione trovate tutti i link relativi a varie dimensioni, più anche il Serie 8, che questo è il Serie 9, il top di gamma, e anche la recensione completa su techstart.it, dove approfondiamo ancora di più tanti altri aspetti, come la parte smart, che posso citare rapidamente, riguarda la possibilità di gestire il multi-view, quindi più immagini mostrate sullo schermo allo stesso tempo, magari, non so, mentre vedo la partita posso fare mirroring con lo smartphone e vedere i tempi, i goal, le statistiche di quella determinata partita, abbiamo qui direttamente la voce, ma abbiamo poi anche varie funzionalità di mirroring, appunto, non solo SmartThings per controllare gli altri elettrodomestici di casa, direttamente anche dal telecomando della televisione, ma anche la possibilità di gestire in modo molto semplice lo streaming da altri dispositivi, che possono essere quelli Apple tramite Apple Airplay o il Miracast tramite Android, posso utilizzarlo come secondo monitor se necessario, quindi si sposa perfettamente anche all'ottica lavorativa. Integra davvero tante funzioni, abbiamo anche il Samsung DeX wireless, e quindi praticamente è assolutamente completo, anche se la scelta di un televisore, e siamo andati su quello chiaramente, è relativa al pannello e l'esperienza di visione che ci mette a disposizione. A me non resta come sempre chiedere il vostro parere e di lasciare tra l'altro un mi piace se questa recensione vi è piaciuta e vi è servita, per ogni commento possiamo sentirci qui sotto, per ogni domanda o direttamente su Instagram, di cui trovi i link in descrizione, e non ti dimenticare di iscriverti al canale per non perdervi altre recensioni, ovviamente anche dall'Ottica TV. Un saluto a tutti e al prossimo video!